Lascia per un po' scorrere il flusso dei tuoi pensieri, sospendendo ogni forma di giudizio e senza secondarli. Osservali e basta. Non intrattenerti su alcuno di essi, ma cerca di afferrare il loro nesso. Non serve fare alcuno sforzo, anzi, non devi sforzarti. Tu non sei loro e loro non sono te. Ben presto ti accorgerai di essere ben altro da quello che gli altri ti facevano credere o da quello che credevi di essere. Non temere, perché ti stai orientando verso la verità, dove ogni forma di apparenza o condizionamento ti appariranno assurdi e ti chiederai finalmente qual è la tua identità più autentica. Ed è proprio a questo punto che inizia a distaccarti da ogni forma di illusione per entrare in un sano disincanto. Non sei più qualcuno, ma sei e basta. Così facendo guarderai il mondo con occhi diversi e ti accorgerai che la pura realtà era proprio in te e sotto i tuoi stessi occhi, senza più la patina dell'ipocrisia e dei pregiudizi.